Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto. Oggi vi mostro l'intelligenza artificiale come non l'avete mai vista. Creiamo una clip video con molto più di un avatar, quindi una figura maschile o femminile, frutto di intelligenza artificiale, in grado di recitare in lingua italiana o in altre lingue un copione da noi scritto. Per fare questo ci basta la nuovissima web app, nulla da installare, DID, sito di riferimento, di-id.com. Come funziona? Allora, per il primo accesso dovremo cliccare su Try It Now, qui a sinistra. Dal secondo accesso in avanti andremo invece, come nel mio caso, su Login, in alto a destra. Vi mostro che cosa accade. Infatti, all'interno della pagina principale, sposto appena appena il mio volto, guardate qui sotto, c'è scritto Guest, siamo ancora ospiti. Clicca sulla tendina, sposto ancora il mio volto ed eccovi Login Sign Up. La voce che mi consente di mostrarvi dove si trova il pulsante Google, ad esempio, per entrare con un account Google Workspace, o Sign Up in basso per la prima registrazione. Clicchiamo nel mio caso su Sign In, sulla lettera G di Google. Scelgo l'account desiderato ed eccoci qui all'interno dell'area di lavoro di DID. Attenti bene, la versione è gratuita con un'unica piccolissima limitazione. Guardate sotto la mia faccia. 14 credits left. Bene, il sistema dei crediti lo trovate anche qui sul mio canale in un altro videocorso, sulla risorsa stupenda DALLI2, scritto DALLE2, in parole povere. Ho 20 crediti appena mi registro, ogni video generato con suma due crediti, arrivato a zero dovrò passare ad un piano a pagamento. Guardate, clicchiamo in alto a destra su Create Video e avremo la possibilità di fare che cosa? Di scegliere il nostro conduttore futuristico, l'amadeus in intelligenza artificiale, versione maschile o femminile, oppure direttamente op versione solo volto, sempre appunto volto maschile o femminile, ma cliccando su Add possiamo addirittura, rispettando la consegna che osserviamo, foto mezzo busto, frontale, labbra chiuse, caricare una immagine personale. Ebbene, io scelgo in questo momento, voilà, il conduttore super professional come vedete. Notate la posizione delle mani, anche quella verrà sincronizzata dalla AI. Tasto, pulsante BG Background, ci permette di scegliere addirittura uno sfondo personalizzato. Pulsante Wide, tre formati per il video in uscita. Orizzontale, quadrato, square o vertical. Esattamente quello di un video realizzato da noi con lo smartphone. A destra, se notate, abbiamo il campo per digitare lo script, il copione. E allora vado a scrivere. Ciao a tutti, eccoci qua. Punto esclamativo. Vi presento questa super applicazione. Io sono la tua intelligenza artificiale. Tutto live qui con voi. Addirittura, se io ritengo dopo un pezzettino di frase che sia più naturale una pausa di 0,5 secondi, ebbene, clicco sull'orologino e applico una pausa. Ecco perché mi è piaciuta subito DID. Perché ho la naturalezza della riproduzione. Attenzione, andiamo sul language e andiamo a scegliere nel nostro caso la lingua italiana. Eccoci qui. Poi scegliamo la voce maschile e qui consiglio. Visto e considerato che potremo avere l'anteprima del nostro lavoro, clicchiamo sull'altoparlante per poter ascoltare se la voce maschile o femminile per scelta ci sembri naturale e un po' più artificiosa. Basterà cambiare il nome. Quindi invece di Calimero, ah, che ricordi! Invece di Calimero avremo Benigno. Ammazza che fantasia con i nomi. Avremo Gianni, Lisandro, Rinaldo. Mi sembra di essere nel Medioevo. Quindi, a voi la scelta. Ciao a tutti. Vi presento questa super applicazione. Io sono la tua intelligenza artificiale. Come avete ascoltato, cliccando sull'altoparlantino già mi rendo conto di che cosa avrò. Beh, ve ne sarete resi conto e ve ne sarete rese conto. Il risultato è davvero eccezionale. Per terminare, è sufficiente cliccare sul pulsante in alto a destra Generate Video. Un clic. Durata, quindi lunghezza del video. Dove vedete New Creative Video, Video Name, vado a cliccare un istante su Cancel. Vi faccio notare che abbiamo una matitina perché possiamo, dovendo avere poi una carrellata di videoclip, dare a ciascuna un nome specifico. Nel mio caso, presentazione di trattino ID. Un clic a vuoto, quindi al di fuori, riclicco su Generate ed ecco qui. I crediti, in questo caso, che vengono erosi, video brevissimo, un solo credito consumato. Altrimenti, nei video un po' più corposi, come vi dicevo, consideratene almeno un paio. Clic su Generate, Tempo Qualche Istante, ed ecco qui, nella nostra area di lavoro, nei nostri progetti in cloud, come si dice, quindi memorizzati qui all'interno, i nostri video. Mentre lavora DID, vi anticipo che noi potremo condividere il video, sia mediante link, che addirittura, con una piccolissima firma in un angolo dell'applicazione, scaricare in formato MP4, un classico video, da riprodurre anche offline. Quando io mi posiziono sul video, il tasto Play è per l'anteprima, i tre pallini servono invece, per Delete, eliminare, per Share, condividere, con numerose applicazioni, ma non interessa il Copy Shareable Link, un link generico pronto da condividere. Oppure ancora, sempre sui tre pallini, scoprite con me, che c'è il tasto Download, che ci permetterà di avere un praticissimo video totalmente offline. Insomma, una bella risorsa che vedo davvero, nella secondaria di primo e secondo grado, per creare qualche attività davvero particolare. A voi la prova su strada, e appuntamento sin d'ora, al prossimo videocorso. Ciao a tutti e a tutte, dal vostro Andrea Cartotto, bye bye!